bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi quante novità finalmente ci sono per il futuro di fortnite abbiamo visto ieri l'arrivo della skin oro tante sfide connesse ma tanti aggiornamenti che forse non sapete vi dirò nel video di oggi però voglio prima ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano utilizzando il mio codice creator xyuderone mi raccomando ragazzi non dimenticatevi di iscrivervi anche ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video delle 13 e 30 ma andiamo a vedere quali argomenti tratteremo oggi parleremo anche del ritorno dei kart ve li ricordate ragazzi golf kart beh ci sono degli aggiornamenti davvero molto interessanti ed ovviamente una sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte prima comunque la domandina della devo fare della devo fare è una domanda davvero semplicissima ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto e la domanda è solo questa ma cosa ne pensi della skin oro dai ragazzi era tantissimo che non arrivava una skin leggendaria nuova parliamo che l'ultima uscì il primo giorno del capitolo 2 nella season 1 quindi il 14 ottobre o il 15 se non ricordo male ed era la skin con il buco nero dietro arriva oro a me personalmente piace tantissimo a una bella roba nella storyline io gli do un bel otto ma quindi ciancio le bande e vanno le ciance andiamo subito ragazzi a vedere un concept super interessante che riprende un'azienda praticamente ha mandato questa fotografia al agli studi di epico comunque con il reparto marketing e vogliono sembrerebbe produrre tre tipi di bevanda dedicate al succo slurp e di questa season il raging raspberry quindi rossa che dovrebbe sapere di raspberry è il lampone mirtillo e caspita il cavolo il secondo quello blu è il blueberry che invece il mirtillo e il terzo invece il grapple juice che invece sarà l'uva tanta tanta roba speriamo di vederle in commercio una cosa sicuramente molto carina ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi e porca la porca con l'update che hanno fatto due giorni fa quelli 350 mega in poche parole hanno aggiunto oltre che alle sfide di oro e alla skin oro il pack criptato che oggi invece si è rivelato appunto essere quella skin delle modifiche ad alcune cose la prima ragazzi è una modifica alla flint knock pistol la pistola a focile quella che è arrivata per la prima volta nella season 8 per chi non se la ricorda è la pistola che quando spari ti ributta indietro venivano fuori dei trick notevolmente interessanti oltre che utilizzarla buttandosi dalle strutture se ce le fanno cadere e sparando per terra in modo da non prendere il danno da caduta è arrivato un update non sappiamo altro ci auguriamo di rivederla il prima possibile ma il vero aggiornamento interessante ragazzi sono loro i golf cart sono state aggiunte nella patch che hanno fatto la 12.10 se non ricordo male il numero giusto perché più che è stato un fix più che una patch hanno aggiunto dei nuovi punti di spawn per i golf cart e porca la porca se mi mettono dentro il golf cart in questa mappa impazzisco perché questo io lo dico spesso e volentieri durante le mie live sulla piattaforma viola questa è una mappa da veicoli terrestri offroad il che vuol dire che non c'era bisogno che si scervellassero per buttarci dentro gli elicotteri mi bastava riavere o il quad o il kart e secondo me il divertimento è assicurato mi auguro davvero che questa notizia dell'aggiornamento delle spawn location degli kart possa essere confermata con il prossimo update e magari rivederli in game ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento perché c'è un'immagine molto curiosa perché io non ho verificato ma sembrerebbe che sia in procinto di chiudere di chiudersi il passaggio che c'è sotto pantano palpitante dove c'è il ponte in poche parole che collega tutta la parte esterna di pantano verso il mare con la parte interna ora io non so dirvi il perché abbiano deciso di fare una cosa del genere o faranno una cosa del genere potrebbe essere semplicemente qualcosa a parte della storyline potrebbe essere perché vogliono contenere il flusso di slurp che tiri dallo scudo e la salute non ne ho assolutamente idea però mi sembrava una cosa molto carina da farvi vedere quindi a meno che non sia già in game ma a me non sembra devo dire che è un po che non passo da quella zona potrebbe essere una roba che c'entrerà in poche parole con il futuro di fortnite e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi perché sta per arrivare anzi se tutto è corretto già questo pomeriggio dovrebbe essere disponibile il nuovo pack da 9 ore 99 bass assassin perché bass assassins perché è un gioco di parole in it in inglese bass è sempre qualcosa relativo alla pesca al fishing e bass assassins è tipo pesce assassino se non segreto ma si capisce che fa parte degli agenti segreti però si capisce anche che fa parte di un qualcosa relativo al pesce quello che a noi interessa è che il pack ha incluso mille v bucks che ci verranno ridati facendo delle sfide le challenge che vengono fatte di solito in realtà sono semplicissime perché ci dicono solo di completare le sfide giornaliere che già epic games e forte ci fanno fare quindi nel giro di cinque giorni massimo sei dovremmo riavere i mille v bucks il che vuol dire che spendo 9 99 me li ridanno in v bucks e ci abbiamo un pack che secondo me che secondo me è bello dai guardalo lì il pesce con gli occhiali da sole porca vaca tra l'altro anche lo stile senza occhiali da sole ma mi sembra un po scoppiato quindi lo terrei assolutamente con gli occhiali da sole ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi perché arrivano dei tweet importanti tra cui quello per la pace 12.40 la nuova pace che è confermata essere il primo aprile la cosa fa un po paura perché il primo aprile è il classico giorno del pesce d'aprile solo che in questi giorni direi che non c'è proprio nulla di cui scherzare quindi ci fidiamo che non ci troglie p games sarebbe anche un po di cattivo gusto pensare gli scherzi in questo periodo e vediamo se arriverà la prossima pace con tanto di downtime dei server e probabilmente con dentro roba interessante per l'end di questa season ma andiamo avanti ragazzi perché c'è stata una cosa molto particolare che non è successa e che doveva succedere ieri è uscito alle 14 il il nuovo set di oro la skin scheletrica dorata appunto che però avevamo già visto avrebbe dovuto avere uno stile personalizzato uno stile aggiuntivo lo stile non brillante e nero questo stile in realtà è stato rimosso quindi forse era un concept addirittura mi azzardo a pensare per una futura season di forte sapete che più di una volta abbiamo visto della roba ma la cosa che a noi interessa e che oro ragazzi è stato proposto con un set di sfide per tutti le sfide sono per tutti ed è pazzesco che regalino sia un piccone che una copertura ragazzi un regalo anzi due meravigliosi nonostante la schiena abbia un costo stratosferico 2000 v bucks più il deltaplano che ne costa invece 1500 il fatto di avere della roba gratis più 400 mila punti esperienza beh io farei un piccolo applauso a epic games e la cosa veramente però interessante che se andiamo nell'immagine principale del del bundle chiamiamolo così di oro si vede una particolarità che forse non tutti hanno notato ve la faccio vedere un po zoomata in basso a destra ragazzi la mano che prima era di mida adesso è scheletrica questa cosa è molto interessante perché midas dovrebbe oro dovrebbe essere anzi è midas ha delle cose molto interessanti e molto particolari uguali la cicatrice sull'occhio la posizione e piccoli altri dettagli che abbiamo visto anche in mida quindi c'è assolutamente da aspettarsi qualcosa che ancora non sappiamo correttamente per questa storyline c'è da dire che però la roba si sta intensificando e sta diventando molto molto interessante beh ragazzi anche per oggi io le news ve le ho detto dette vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali io sono in live sulla piattaforma viola ciao